Musica Guarda quello, guarda quello, guarda quello, guarda quello, guarda che fenomeno, guarda che fenomeno, guarda che fenomeno. Non curante del semaforo rosso che indicava la chiusura per allagamento del sottopasso di via Cecchetti a Civitanova Marche, un ciclista si è letteralmente tuffato nel pantano dove l'acqua aveva raggiunto l'altezza di un metro. È la scena ripresa nella serata di domenica da un residente allibito per quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi, poco dopo la bomba d'acqua caduta sulla città intorno alle 21. Un'ondata di maltempo prevista anche da un'allerta meteo gialla della protezione civile delle Marche che ha colpito in particolar modo la costa maceratese. Il nubifraggio si è protratto per circa un'ora con una grande portata d'acqua che ha paralizzato la viabilità cittadina soprattutto in centro, dove i tombini non sono riusciti a smaltire la pioggia e hanno allagato strade e sottopassi. Un fiume d'acqua ha invaso via Duca degli Abruzzi, via Letti di Piazza 20 Settembre e le vie del Borgo Marinaro, bloccata la circolazione anche del sottopasso di via Buozzi. Una situazione che è tornata pian piano alla normalità appena smesso di piovere. Una ventina in tutto le chiamate a vigili del fuoco per alberi e scantinati. Di mattinata sono stati effettuati ancora un paio di interventi.